Festa dello sport acquatico a Torre del Greco. Domenica 6 maggio a partire dalle ore 9 del mattino, al complesso Punta 420, si svolgerà il secondo Memorial Vittorio Raiola. La gara sportiva, intitolata ad uno dei soci fondatori della società, vedrà gareggiare in acqua l'élite del nuoto regionale. Quante sono le squadre provenienti da tutta la regione che partecipano? Ne sono circa 6. Per un totale di circa? Un 300-400 atleti. La seconda edizione dell'evento, tutti domenica saranno qui a seguire gli atleti, ci saranno anche tanti proprio della vostra società che da anni sappiamo svolge numerose attività. Quali sono state le più importanti? Io avevo un ex atleta che ormai non partecipa più alle gare, che ha vinto i campionati italiani nei 50 metri stile e nei 100 metri stile, piazzato secondo a livello italiano. Adesso stiamo incominciando a intraprendere di nuovo quella scia con un bel gruppetto di atleti che nuotano tutti i giorni e speriamo che possiamo portare qualcuno ai campionati italiani. E ora sfiderete insomma queste altre società di Poggio Marino, di Salerno, arrivano un po' da tutta la campania, però nessun vincitore, alla fine saranno premiati un po' tutti i partecipanti. Sì, e a scopo sicuramente per stare insieme, uno sport per tutti.